Grazie ad Airola, nel Beneventano l'aumento dei casi ha fatto scattare da oggi fino al 22 novembre la zona rossa molto severa e le misure di contenimento. Ci colleghiamo con Giuseppe De Caro. Buon pomeriggio ad Airola, comune della provincia di Benevento con poco più di 8 mila abitanti. Nell'ultimo mese in questo comune si sono registrati 123 casi di contagio da coronavirus, due decessi negli ultimi giorni, numeri preoccupanti che hanno portato il sindaco Michele Napoletano ad emettere una propria ordinanza e a disporre da oggi fino al 22 novembre un mini lockdown per questo paese del Beneventano. Sindaco, che cosa prevede la sua ordinanza? Innanzitutto il divieto di uscita e di entrata dal territorio comunale se non per validi motivi. Buongiorno a tutti. Ovviamente prevede proprio questo, cioè che nessuno può venire in questo territorio se non per motivi necessari, quindi lavoro, malattie e quant'altro. La stessa cosa per l'uscita. Prevede la chiusura delle scuole, prevede la chiusura degli esercizi commerciali, bar, ristoranti, panetoteche, tre ore anticipate. Prevede la chiusura di domenica alle ore 14, tutte le attività si fermeranno. Prevede sempre la chiusura del cimitero, la chiusura delle piazze, la chiusura delle messe. Io chiedo alle istituzioni superiori comunali dateci una mano, non lasciateci soli perché non possiamo perdere quello che abbiamo costruito negli anni. Bene, grazie al sindaco napoletano, protezione civile, polizia municipale, i carabinieri si stanno organizzando in queste ore per presidiare tutti i varchi d'accesso al comune di Airola. Noi in merito all'ordinanza del sindaco abbiamo ascoltato la voce di alcuni cittadini, sentiamoli, poi la linea può tornare allo studio. Mi sembrava giusto limitare un po' i danni, almeno in questo modo, tenendoci un po' più tranquilli, anche perché dato la situazione anche della regione che sta soffrendo dal punto di vista sanitario, penso che è meglio dare una mano un po' tutti insomma. Noi già lavoriamo malissimo, anche se andiamo aperti, purtroppo le persone non escono per ovvi motivi e quindi siamo già in ristrettezza. Con questa ordinanza ancora di meno. Se avessi chiuso tutto per un certo periodo di tempo avrebbe fatto bene. Purtroppo queste mezze misure non servono a niente, anche perché controlli fino adesso non ce ne sono. Il sindaco è stato costretto secondo me a emanare questa ordinanza. Purtroppo è un brutto periodo per tutti, ci rendiamo conto, ma passerà, dobbiamo essere ottimisti.